119 donne uccise solo l'anno scorso, nella maggior parte dei casi, per mano dei partner o di ex. Un dato in netto calo rispetto al 2018, quando i femminicidi furono 141, ma in aumento rispetto al 2019 e al 2020. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, la Polizia di Stato ha pubblicato questo video e i dati relativi ai reati di genere avvenuti in Italia negli ultimi 4 anni. In controtendenze ai cosiddetti reati spia che hanno registrato nel lungo periodo un incremento, i maltrattamenti in famiglia del 30%, lo stalking del 18%, mentre la violenza sessuale del 2%. Ma la crescita di questi dati potrebbe dipendere da una maggiore propensione alla denuncia. Per chiunque si trovi in difficoltà è attivo, 24 ore su 24, il numero antiviolenza 1522. Noi siamo qui per te, noi siamo qui con te, non metterti in un angolo, parlami, noi ti ascolteremo, perché il silenzio aiuta la Dulzini, mai la vittima.